ciao a tutti raga e ben ritrovati sul canale cobra scacchi e passione oggi voglio farvi vedere assolutamente un nuovo investimento per il canale sto facendo un video con il cellulare perché voglio farvi vedere cosa ho fatto di nuovo ho preso una nuova camera giriamo ed ecco qui la camera ragazzi facciamo l'unboxing insieme canon eos r50 mirrorless bellissima mamma mia che spettacolo un altro mondo rispetto fatta assolutamente per il video medking quindi scatola stupenda nera bellissima uscita l'anno scorso la macchina quindi la facciamo vedere eccola la apro libretti così questo ed eccola qui la sto aprendo per la prima volta primo video unboxing che faccio ed ecco qui la camera ancora con la plastichina grandissimi ragazzi sarà un salto enorme per il canale e la qualità dei video sarà bellissima grandi ragazzi